Una sinergia esercito-sanità che rappresenta un caso unico in Italia e che ha portato a Padova la donazione di una sala operatoria mobile che è stata allestita in un'area servizio all'interno dell'azienda ospedaliera. La concessione a Padova della struttura medica nasce dalla necessità di sopperire alla criticità rappresentata dalla Banca dei Tessuti del Veneto, dovute anche alla carenza di strutture che garantiscono l'effettuazione dei prelievi multitessuto. Sono dei dispositivi che hanno determinati costi, delle manutenzioni che sono obbligatorie, quindi da un lato un aspetto diciamo essenzialmente logistico-amministrativo e poi c'è l'aspetto primario che è quello dell'addestramento del nostro personale. Nell'ambito dei nostri valori c'è chiaramente valori, tecnologia e addestramento e questa è una grande opportunità per noi perché come è stato spiegato avremo la possibilità di addestrare il nostro personale, non soltanto quello diciamo in fase specializzazione ma soprattutto i soccorritori militari che sono quelli che impieghiamo abitualmente i nostri tutti i teatri operativi. La sala operatoria mobile è stata resa disponibile dal comando logistico dell'esercito ed è stata installata dal personale del terzo reparto sanità Milano. Rimarrà in uso all'azienda ospedaliere di Padova per un anno con possibilità di rinnovo della convenzione.